Matteo Franconi ha la presentazione dell'ITF quest'anno ancora più grande e ancora più sul territorio. Sì, una bella serata in piazza per presentare un evento internazionale che renderà Ponte d'Era e il territorio intorno a noi protagonista di una settimana di grande sport ma anche grande opportunità di promozione del nostro territorio. Il turismo sportivo è diventata veramente una risorsa per le amministrazioni, soprattutto nell'ultimo periodo? Sì, il turismo sportivo è un elemento importante sul quale la Toscana secondo me deve continuare a investire sia in progetti di infrastrutture come in piazze sportive ma anche di promozione di eventi che possono avere una valenza internazionale. Senza contare che sarà una vetrina sicuramente? Sarà una vetrina grazie a chi lavora dietro le quinte e che permette alla città di vivere una settimana davvero di grande tennis ma anche una grande settimana di divertimento. Grazie, buon lavoro! Grazie! Grazie!